Buonasera signore e signori Andreana che vi parla di Radio Mirti, prodotto di Mirti Finance, società di Milano di Business Advisor. Come già sapete questa è una rubrica dedicata alle donne, un corso pratico di emancipazione. Benvenuti a questa seconda puntata che poi è la prima da un punto di vista prettamente pratico e concreto. Quanta partecipazione alla prima puntata semplicemente introduttiva di questa nuova rubrica. Grazie, grazie, grazie. Tanti nuovi iscritti, anche uomini. Poi non so se questi ultimi sono stati attratti in generale dalle puntate della nostra radio che riguardano il mondo del management o specificamente da questa rubrica. Abbiamo già un caso, capitato ovviamente per caso, da citare questa settimana. Sarò estremamente sintetica e ovviamente nell'integrale omissione di nomi e cognomi. Però mi è successo un caso che mi ha incuriosito, perché qui abbiamo un caso di azienda in stallo in una condizione pressoché prossima a una procedura fallimentare. Abbiamo tre figli già di mezza età, tre figli, figli della stessa famiglia. Vi ricordate cosa abbiamo detto la scorsa settimana? Maschilista, latente o espresso, donna, sottomessa a questa mentalità, sono entrambi figli di un'educazione. Quindi anziché incazzarsi, provare a capire l'altro e trovare una quadra, chiaramente da ambo le parti. Quindi giù l'ascio di guerra, però un po' di determinazione nel comportamento sarà necessario, soprattutto da parte vostra, care signore. E qui però abbiamo questi tre che sono figli della stessa mamma e dello stesso papà. Classica situazione, anche se nel 2020 dopo Cristo ti fa impressione, un padre accentratore con un'azienda che ha visto anche periodi straordinariamente importanti e di successo, di fatto ha sempre tenuto le figlie in secondo piano, ha dato in mano tutto al figlio, il figlio ha portato sull'astrico l'azienda, una delle due figlie lavora dentro e sa va a sentir con un riconoscimento salariale drammaticamente inferiore a questo figlio maschio. Voi non ci crederete, una figlia non lavora dentro, ma poi scopriremo che anche lei ha il suo perché in questa storia. Bene, questo uomo fa tutto lui, sta tutto lui, le sorelle pressoché non vengono prese in considerazione, voi non ci crederete, ma la sorella che lavora nell'azienda creerà un processo produttivo che è la salvezza di questa azienda. Nonostante l'evidenza che il rapporto al tracollo dell'azienda, il 70% del fatturato, per poco che sia, è portato da questo processo innovativo della sorella, questo non ne vuol sapere. E non ha neanche mai messo in dubbio la sua autorità, la sua non idoneità in questo momento a quella posizione e non rinuncia al suo stipendio. Peraltro piuttosto consistente. Il padre è morto di recente, non si è neanche messo nelle condizioni di dare delle quote ai figli e oggi cosa succede? Succede che non si riesce, almeno allo stato attuale dell'arte, a scardinare questa situazione perché le due sorelle non riescono, e dopo scopriremo poi il perché, non riescono a far fronte alla situazione. Perché? Perché, alla detta di una terza parte, queste due sorelle, di cui una interna all'azienda, anche piuttosto arrabbiata, e l'altra no, non faranno mai niente per contraddire il fratello maschio. Voi avete capito che questo è un disastro. È un disastro perché? Perché queste due donne sono state evidentemente cresciute come tante altre donne. Come vengono cresciute le donne? Nella convinzione che debbano sempre piacere a tutti quanti. Quindi assumono dei comportamenti che questi tutti quanti impongono. E quindi io vedo donne che stanno sempre un passo indietro, vi è un sorrisino sotto l'altro perché bisogna essere sempre sorridenti e carine come delle bambolette, atteggiamenti adolescenziali, inutili pianti. Cioè le vedessi commuoversi quando si ottiene un obiettivo nell'azienda. No, queste piangono in continuazione per niente. Basta sgridarle un po'. Basta... Perché le donne le sgridano e che loro piangono. Adesso correggeremo anche questo. Vedo degli modi di vestire improbabili e spesso scomodi e non propedeutici alla propria professione. Un'esasperazione della femminilità, una lotta per mettersi in mostra pur di essere carine, simpatiche, compiacenti, e poi ipercriticità verso le altre donne. Io comportamenti così veramente non li sopporto più. Quindi anche nel caso, nel case history di questa settimana, al di là che io non so come si vestono queste signore, non è questo il punto, il punto è più, è più drammatico, no? Cioè, proprio la famiglia è riuscita a inculcare in un figlio maschio, solo in quanto maschio, un'autorità che non l'ha saputo esercitare, un'ossessione della sua posizione come posizione intoccabile e non criticabile, perché d'altra parte non si è mai costruito un contraddittorio, e dall'altra parte due donne di cui una sta salvando, o potrebbe anzi salvare, perché ancora non gli è permesso, potrebbe salvare l'azienda, che però in fin dei conti, poverino, non si può dirgli a muso duro quello che si merita. Io personalmente ho detto, ma voi cercate un finanziatore, a voi tre conciati così, non vi darei neanche una lira. Cominciate almeno a dare le dimissioni dal consiglio d'amministrazione. Però la storia non è tanto su come procede questa azienda, ma per farvi capire come una disparità tra generi senza un'oggettiva invece giustificazione, cioè parlo di competenze, quindi una disparità più logica, ripeto, solo di genere, può portare al fallimento un'azienda. Poi dopo si riempiono la bocca di tutte le loro menate responsabilità sociale, noi ci teniamo i nostri dipendenti. Poi in realtà proprio questo sistema, questo incastro perfetto tra vittime e carnefice sono la ragione per cui questa azienda sta saltando per aria, ma veramente è prossima a depositare i libri in tribunale. Ma veniamo a noi. al di là che questo episodio che mi è stato sottoposto questa settimana, diciamo che vi sarete accorti che si parla di potere. C'è chi ha il potere perché, come in questo caso, è il figlio maschio, c'è chi ha il potere perché se lo conquista, però il potere è una parola che fa paura a tantissime donne. Non bisogna avere paura di avere potere. Potere ce l'hai nella tua vita, nella tua azienda, dove lavori. Ambire al potere significa anche crescere. Te lo devi guadagnare tu il potere. Non ti casca mai dal cielo. Chi ce l'ha di solito teme che altri prendano sopravvento, portino via una fettina di spazio. Anzi, più delle volte il potere viene descritto da queste persone che il potere ce l'hanno già come un termine obsoleto, ma dove vai, il potere non è tutto nella vita. Ma il potere è un concetto lato, non è solo uno stipendio, una posizione. È un concetto lato che se non lo costruisci dentro non arrivi poi alla fine neanche a governare i tuoi figli. Però noi parliamo di lavoro e non di famiglia, per cui vediamo un po' come si può fare. Perché noi abbiamo promesso e con stasera lo dimostreremo che questo è un corso pratico. cioè non andiamo avanti a parlare delle solite storie che già ne parlano in troppi e ripeto, anzi, mi correggo rispetto a prima, siamo nel 2021 dopo Cristo e siamo ancora qua. Quindi, nella logica della praticità e della concretezza, oggi vi racconto gli affari come funzionano. Per me gli affari sono proprio, lo dico in senso generale, generico, il mondo lavorativo. Allora, gli affari sono come un gioco. Se voi iniziate a vederlo come fanno i maschi, mi diverto di chiamarli così, cominciate veramente a togliervi un sacco di orpelli inutili e un sacco di macini. Negli affari e nelle aziende voi entrate con me a giocare a Monopoli. Avete mai giocato a Monopoli? Io sì tantissimo e mi sono sempre divertita. Quindi anche nelle aziende, quindi negli affari, ci sono delle regole e le donne si mostrano molto meno abili nel capirle. Perché prevale sempre quel modus operandi dettato dalle famiglie che è rivolto a loro stesse le quali, come abbiamo già detto ben fin troppe volte, sono concentrate a essere gradite al prossimo. E mentre loro cercano di imbellettarsi, essere sorridenti, silenziose, trasparenti, gli uomini si divertono e fanno affari. Allora, in ogni azienda esistono delle regole e voi dovete imparare a capire quali sono. Capire le regole che governano un ambito e un ambiente lavorativo permette di capire in maniera oggettiva se voi siete brave in questo senso oppure no. Voi dovete usare le regole dell'azienda a vostro vantaggio. Quali possono essere le regole di un'azienda? Facciamo qualche esempio pratico. Sono un'azienda piccola, ha un titolare, può essere anche una donna, che non ama essere contraddetto. Bene, scrivilo in una lista. Magari scopri che tu continui a battagliare con questa persona. Magari modificare quel comportamento alleggerisce la tua posizione e la tua quotidianità. Scopri che in quell'azienda fa molto figo bere l'aperitivo. Bene, gioca anche tu. Perché così ti sentono parte della squadra. In quell'azienda amano mettersi a tappetino nei confronti dei clienti. Il cliente ha sempre ragione. Personalmente io dico non è vero, basta sapere o trovare il modo giusto per farglielo capire ma ciò nonostante perché sennò anche qui abbiamo un problema di gestione relazionale ma diciamo che se questa è la filosofia tu vai dietro un po' all'onda. Tu vai dietro un po' all'onda e vedrai che li fai contenti. Voi direte ma come mi hai appena detto che io mi devo sempre comportare in maniera tale che gli altri siano compiacenti e mi condividano. Sì, però attenzione queste sono regole di un gioco di un gioco professionale. Adattarsi alle regole diventa una forma di comportamento consapevole che non è il comportamento inconsapevole che ti porti dietro tutti i giorni e te lo porti dietro ovunque in qualsiasi circostanza familiare nel tempo libero sul lavoro no, 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 no questo invece diventa un comportamento consapevole. tu decidi che per stare bene in quell'ambiente devi andare un po' dietro l'onda per poi farne di questo un'arma per il tuo vantaggio. Sei tu che hai deciso poi se la cosa non ti sta bene nessuno ti lo deve imporre però almeno sei consapevole se decidi di fare una cosa o non farla di assecondare una situazione o di non assecondarla se c'è il torneo di tennis ma cavoli vacci pure tu non fare l'orso non fare l'orso vai buttati in questa cosa quindi vuol dire integrarsi con un gruppo allora facendo ed è solo facendo una lista nero su bianco proprio prendi il quadernetto e scrivi e te le scrivi tutte tutte che capisci dove sei debole e dove non sei debole quindi ripeto differentemente da un comportamento inconsapevole generico imposto da una famiglia per cui tu devi essere in un certo modo per piacere a tutti no qui no qui tu sei consapevole e sai quali sono le regole di quell'ambiente e quali sono i punti di miglioramento che ti sono richiesti ricordatevi sempre che comunque adeguarsi a una regola piuttosto che adeguarsi a un sistema non deve assolutamente toccare la vostra etica mai non ci devono essere compromessi che sono come dire che vi tolgono il sonno di notte che vi tolgono la personalità mai ricordatevi la dignità c'è un altro aspetto poi nel gioco che è una cosa che spesso tira fuori il lato debole delle donne pensate sempre che i maschi vivono gli affari come un gioco che si divertono un po' come quando giocano a pallone scusate mio consueto raspino quando giocano a pallone sanno perfettamente ci sono delle regole ci sono dei vincitori ci sono dei perdenti nel famoso meccanismo perverso per cui noi dobbiamo essere piacevoli a tutti non amiamo immaginare che qualcuno perda e invece non è così negli affari non è così non confondiamo la filosofia moderna che anch'io condivido che si chiama in inglese win-win devono vincere tutti no non è questo win-win significa che una negoziazione è buona quando porta un equilibrio di beneficio il famoso mutual benefit cioè se c'è una parte che in una trattativa è lesa in maniera importante sappiamo tutti che presto o tardi questa storia finisce e addirittura ci si ritorce contro ma concettualmente negli affari c'è chi vince c'è chi perde se c'è una posizione in quell'ufficio in quel ruolo e non ce ne possono essere due è inutile se vambite a quella posizione saprete che se ci andate voi qualcun altro non ci andrà e questo a voi vi fa star malissimo il voto degli affari non è proprio sempre volemose bene siamo una grande famiglia bisogna anche saper competere così come bisogna saper far rispettare il proprio territorio che ci viene affidato le donne no le donne è sempre tutto piuttosto che andare in competizione preferiscono fare la guerra alla collega perché la ritengono più più carina più bella tra parentesi alimentano un comportamento che non si sa perché questo proprio non ci riesce nessuno un comportamento che prevede il fatto che anche se tu sei un premio nobel dell'astrofisica nucleare tutti i giornalisti colleghi parenti amici conoscenti diranno prima se sei bello se sei brutto e poi forse parleranno della tua intelligenza quindi anziché fare la guerra alle tue colleghe fai la guerra al posto giusto vuoi quel posto devi conquistartelo non significa che massacri l'avversario devi semplicemente entrare in competizione se poi quel avversario è un maschio sappiate che quello lì dorme mangia lo stesso perché ce l'ha più nella sua natura la competizione la competizione non è una cosa illecita la competizione non è una cosa da denigrare poi c'è la sana competizione c'è la competizione più sporca dipende anche dall'ambiente in cui lavorate l'ambiente che state vivendo la crescita nell'arco nell'ambito di un'azienda avviene in un arco temporale quindi bisogna anche sapere dosare i passi ma bisogna anche porsi delle date delle scadenze perché non si può aspettare sempre le calende greche vedremo nei passi poi successivi nelle prossime puntate una serie di correttivi proprio di ordine operativo ce n'è uno che vi anticipo è quella cosa per cui i maschi sono in giro a fare pubbliche relazioni e le donne fanno i miracoli in azienda e i maschi dicono che le donne sono più brave e certo sono delle schiave super efficienti ma di questo parleremo parleremo più avanti quindi ricapitolando il compito che abbiamo questa settimana è quello di scrivere su un bel foglio di carta quelle che sono le regole dell'azienda in cui lavorate quelle operative le logiche di pensiero la direzione come si comporta come vorrebbe le abitudini anche extra lavorative scrivetele tutte e ricordatevi che da lì capite in maniera consapevole cioè come vostra scelta libera integralmente libera come sceglierete come adeguarvi per essere non gradite dall'azienda ma per integrarvi e poi agire come preferite per ottenere potere potere che non è una parola sporca potere che è un peraltro è divertente potere peraltro c'era Andreotti che diceva il potere come che lo diceva fa invidia a chi non ce l'ha una roba del genere ecco sì il potere logora chi non ce l'ha sappiate che avere potere è una grande responsabilità tutti ambiscono avere potere ma poi alla fine se ne pentono perché 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 poi bisogna essere tosti per poterlo gestire quindi basta con gli atteggiamenti infantili basta con gli atteggiamenti remissivi e ricordatevi che non esistono solo donne dirigenti la logica che le logiche che io vi porterò riguardano anche donne con dei ruoli impiegatizi dei ruoli anche minori nella gerarchia aziendale ma vedrete che vi serviranno ovunque voi siate perché l'importante secondo me è che iniziate ad apprendere quel percorso di scelta consapevole e libera di come volete comportarvi in un determinato contesto punto piace agli altri o non piace basta sorrisini elargiti a destra e sinistra basta pianti inutili non siete ragazzine non siete bambine nessuno uno può criticare il lavoro che avete svolto ma quando criticano il lavoro svolto da un uomo è un gioco tra maschi più o meno consapevolmente e faccio apposta anche dire più o meno inconsapevolmente quando un maschio deve criticare il lavoro di una donna è come se sgridasse una ragazzina domandatevi perché perché vi ritiene tali e allora domandatevi se magari voi non avete dei comportamenti tali che agli occhi di questo uomo voi non siete oltre l'adolescenza e dopo questa lunga chiacchierata io vi auguro un buon lavoro ci sentiremo la settimana prossima i lavori che facciamo settimana dopo settimana sono impegnativi perché vanno a scardinare dei pilastri del comportamento di molti di voi ricordatevi che non tutti i profili che descriveremo o comportamenti che descriveremo sono necessariamente riguardanti la vostra persona però possono essere utili per delle amiche o per delle colleghe quindi passate parola come avete già fatto anche la scorsa settimana perché questa rubrica venga ascoltata da un numero sempre più importante di donne vi auguro buona serata e un buon inizio di settimana lavorativa visto che domani è lunedì 25 gennaio un caro saluto ad Andreana e vi auguro tutto il bene ciao signore grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.